... Bravo! Prisione! Prisione! Prisione? Scusa! Vai più lunga, non fare un pezzo solo, vai più lungo e cambi quando sei a metà, vai fino in fondo e solo indietro, deve abbassargli la leva un pelino perché è troppo alta non ce la fa tirarla su, va, non ce la fa, vedi che non ce la fa, fa fatica, deve abbassargli almeno un attacca, se no fa una fatica della misera a tirarla in su, va bene, ma quello è meglio perché non la tocca adesso, quello va bene, però deve abbassargli la, sbassargli c'erano lì tutto loro, vai fino a lì che ce l'avranno lì tutto, c'erano lì di tutto e di più, perché se no fai una fatica del diavolo e non riesci a capire dopo